Si vede molto ogni quattro, è noto nel mondo se non fosse per lui No, no, io mi ricordo quando era la processione della Madonna dell'Arto L'hanno vista? L'hanno vista, gente dice, non ho mai visto cose del genere E quella è bella Quello è un nostro paesano che vive a Roma però è molto legato alla sua terra, alla sua origine E si diverte per hobby, non per professione Dicevo, quando gli costa, gli hobby si pagano, non c'è spesa per gli hobby Però onestamente devo riconoscere, e questo lo dico pubblicamente Che la processione della Madonna dell'Arco ha avuto un contributo notevole anche da parte di Fausto Corpo Infatti la seconda parte è stata girata da lui, quella che parte da Dentecane e l'arriva a Pietra Ma tu hai due padecchie, oggi sicuramente quella di San Faustino sarà immortalata Sì, sì, per lì, sì, sì E allora avremo da vedere, abbiamo un po' di tempo Benissimo, tu mi autorizzi a mandare su YouTube anche? Tutto vai, vai Va bene, ti ringrazio, buona festa, ci vediamo oggi Grazie, grazie, ciao Ciao, ciao